Anticipazioni Terra Amara, dove assisteremo agli eventi successivi alla morte di Beis, ma non solo, inizierà un nuovo capitolo nella storia tra Umit, Demir e Zuleya. Siete pronti a scoprire cosa succederà? Iniziamo! Demir si reca in ospedale, dove Umit le esprime le sue condoglianze per la perdita di sua madre, una persona preziosa per tutta Cucurova. In risposta, Demir afferma che è meglio che Beis sia morta in quel modo, altrimenti l'avrebbe uccisa lui stesso. Tuttavia, Fekeli interviene, e poco dopo arriva il corpo di Beis. Il capo procuratore si presenta e chiede se sia necessaria un'autopsia, ma afferma che non è indispensabile poiché Beis aveva confessato il crimine di fronte a testimoni. Il procuratore rivolgendosi a Demir, sottolinea quanto Ankar fosse preziosa per Cucurova e dichiara che l'assassino è morto. Fekeli interrompe il procuratore, sostenendo che si tratti di giustizia divina. Il procuratore spiega che con la confessione di Beis, il caso della morte di Ankar verrà chiuso. Successivamente, il procuratore informa Fekeli che Muzgan può organizzare i funerali per sua zia, ma Demir si oppone all'idea di seppellire l'assassino di sua madre a Cucurova. Fekeli afferma con determinazione che non permetterà che la donna che ha ucciso Ankar sia sepolta vicino a lei e che discuterà la questione con Muzgan. Zuleyha si trova presso la tomba di Ankar e, accarezzando la lapide, le rivolge parole di conforto, dicendo che Beis ha ricevuto la sua punizione e ora può riposare in pace. In quel momento, Demir si unisce a lei, lodandola per aver contribuito al trionfo della giustizia. Le comunica che il corpo di Beis è stato portato in obitorio, ma che non sarà sepolta a Cucurova. Zuleyha condivide il suo dolore per la mancanza quotidiana di Ankar, e Demir le rivela che sua madre la amava come una figlia. Tuttavia, le chiede perché non gli ha rivelato di aver scoperto la colpevolezza di Beis. Zuleyha spiega che temeva che Demir avrebbe ucciso Beis, ma lui la ringrazia sinceramente per la sua azione e promette di non dimenticare mai quanto abbia fatto. Prima di continuare, se ancora non l'hai fatto ti chiedo di lasciare un mi piace e di iscriverti al canale. Grazie di cuore a chi lo farà. Nel frattempo, Mushgan è profondamente addolorata, e Fikret è preoccupato perché non mangia. Lei gli confessa di sentirsi sola ora che la zia non c'è più e che ha solo Kerem. Fikret le assicura dolcemente che non la lascerà mai sola e che saranno lì l'uno per l'altro. Fekeli si unisce a loro e, nonostante la triste situazione, le dice che si vergogna di guardarla dopo che la zia ha ucciso l'amore della sua vita. Tuttavia, le assicura che non è colpa sua e che rimarranno uniti come famiglia, affrontando insieme il dolore. Mushgan ringrazia Fekeli per la sua gentilezza, poiché si sente delusa dai suoi parenti. In seguito, lo informa che organizzerà il funerale della zia a Istanbul e che ha bisogno che lui sia presente. Fekeli è d'accordo ma decide di non accompagnarla personalmente, mandando Cetin al suo fianco per non lasciarla sola. Successivamente, Fikret si offre volontario per accompagnarla al funerale, rappresentando la famiglia dopo che Mushgan li ha lasciati da soli. Fekeli sottolinea che questo non è un momento facile per lei, e Fikret concorda, affermando che è stata sconvolta dalla scoperta che sua zia era un'assassina e che suo padre era disonesto. Fekeli spiega che aveva accolto Beys in casa perché era la zia di Mushgan, ma ora riconosce che era una donna malvagia. Inoltre, raccomanda a Fikret di non lasciare sola Mushgan in questo momento difficile. Fekeli è nella sua camera, di fronte al ritratto di Ankar. Rivolge parole a lei, esprimendo il suo rimpianto per non aver capito che stava vivendo con la sua futura assassina. Adesso, Ankar può riposare in pace perché è stata vendicata, e né Demir né lui hanno macchiato le loro mani di sangue. Con una nota di malinconia, commenta che, sebbene fossero destinati ad amarsi, non erano destinati a vivere insieme. Ma sottolinea che un giorno si riuniranno. Mentre Mushgan e Fikret vanno a ritirare la bara di Beys, si trovano da soli, poiché nessun conoscente è venuto a darle l'ultimo saluto. Mushgan condivide il ricordo di quando, da bambina, aveva affetto per sua zia, quindi era felice che Beys fosse venuta a Kukurova. Ma ora è consapevole che era un'assassina. Fikret le risponde che non possiamo scegliere la nostra famiglia, ma possiamo cominciare una nuova vita da zero. Nel frattempo, Fekeli ha pubblicato un annuncio sulla morte di Beys sul giornale, dedicando parole piene di amore alla preziosa e insostituibile Ankar Yaman, facendo commuovere chiunque legga l'articolo. Tuttavia, Umit è infastidito dal fatto che Zuleyha abbia aiutato Demir a impedire l'omicidio di Beys. Alla sepoltura di Beys a Istanbul, sono presenti solo Fikret e Mushgan, con quest'ultima ancora sconvolta per quanto ha scoperto. Poco dopo, una signora si avvicina e offre delle scuse chiaramente false per giustificare l'assenza dei loro amici e conoscenti. Nel frattempo, a Kukurova, Demir ha convocato una conferenza stampa insieme a Zuleyha. Durante la conferenza, esprime il suo profondo dolore per la brutale perdita di sua madre, elogiando poi Zuleyha per aver scoperto, con l'assistenza di un investigatore di Istanbul, che sua madre era stata uccisa da Beys. La ringrazia per essere sempre stata al suo fianco. Durante la conferenza, Umit osserva nascosto dietro una colonna, ma se ne va prima di essere notato. Dopo il rituale funebre di Beys nella tomba di famiglia, Mushgan si inginocchia davanti alla tomba e, nonostante la malvagità di Beys, le offre la sua benedizione per il bene che le aveva mostrato quando era piccola. Prega a Dio di perdonarla. Quando Mushgan lascia il cimitero con Fikret, lui le spiega che torneranno ad Adana solo il giorno successivo, dando a lei il tempo di calmarsi e riposarsi. Lei lo ringrazia per essere stato costantemente al suo fianco, e lui la abbraccia, promettendole che non la lascerà mai sola. Nel frattempo, Demir torna in azienda con Zuleyha, elogiandola nuovamente e ringraziandola. Zuleyha nota sulla scrivania di Demir un astuccio con dei bellissimi gemelli, che lo sorprendono quando li vede. La segretaria spiega che sono stati inviati da un cliente quella mattina, ma in realtà è Umit che li ha fatti recapitare, stando vicino al telefono in attesa di una chiamata da Demir riguardo al regalo. Dopo la partenza di Zuleyha, la segretaria informa Demir che i gemelli sono stati mandati dal primario dell'ospedale, ma non lo aveva detto prima per timore che Zuleyha fraintendesse. Demir apprezza la delicatezza della segretaria. Quando Fikret e Mujgan arrivano in hotel, lui le mostra la sua camera e insiste affinché cenino insieme, poiché lei non ha voglia di mangiare. Mujgan gli comunica che deve trovare una piccola casa a Istanbul per lei e Kerem, in quanto non tornerà a Kukurova dove non ha il coraggio di affrontare la gente e dove la considereranno la nipote di un'assassina, insultandola. Fikret la prega di tornare con lui, perché non può vivere senza di lei. Mujgan trova un giornale che le è stato messo in borsa dalla signora che ha incontrato al cimitero. Sulla prima pagina, il giornale riporta la notizia che Beis, una figura di spicco nella società bene di Istanbul, ha commesso un omicidio. Fikret cerca di toglierle il giornale di mano, ma Mujgan, sconsolata, gli dice che lo sanno anche lì, e si sentirà costretta a vergognarsi. Fikret cerca di consolarla, assicurandole che col tempo tutto sarà dimenticato e che ora ha lui accanto a lei. Così terminano le anticipazioni di Terra Amara. Cosa ne pensate? Scrivetelo nei commenti, e se siete curiosi di scoprire cosa succederà nelle prossime puntate, scrivete nei commenti, voglio sapere di più, e presto uscirà un nuovo video. Alla prossima!